Cosa si mangia? Cosa si mangia? Quella ragazza quando si levanta? Usciare. No! allora 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 andiamo io si 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 che buon pezzo che è si si buon pezzo buon appetito buon appetito buon appetito buon parloratis ti piace? si, mi piace molto si, si, mi piace molto oh, oh Rai, mi piace molto ah, mi piace molto è che tu non fai, non fai così va bene, va bene fai mangiare Rai